Stavano rientrando a casa al termine di una giornata di lavoro quando sono stati bloccati lungo la strada da un gruppo di banditi che li hanno rapinati del furgone carico di merce e di alcuni effetti personali. Decisamente una brutta avventura quella vissuta ieri pomeriggio da tre venditori ambulanti andriesi di ritorno dal mercato di Cerignola. L'assalto è avvenuto poco dopo le 14 sulla ex statale 98 nel tratto di strada che collega la città o Fantina a Canosa di Puglia. Ad entrare in azione quattro persone armate di pistole e fucili a pompe con i volti coperti da passamontagna. A bordo di una lancia Y i malviventi hanno costretto le vittime a fermarsi e a scendere dal fulgone sul quale viaggiavano un Iveco Daily. A quel punto sempre con le armi in pugno hanno obbligato i tre lavoratori andriesi a consegnare i loro effetti personali. Non contenti i rapinatori si sono poi impossessati anche del mezzo carico di capi di abbigliamento femminili per poi allontanarsi senza lasciare traccia. Le vittime rimaste a piedi e senza telefoni cellulari hanno chiesto aiuto al titolare di un'attività commerciale trovata lungo la strada e da qui hanno allertato la polizia per poi formalizzare la denuncia. Le indagini sull'accaduto sono affidate agli agenti del commissariato di Cerignola.